La speranza che tutti quanti abbiamo è che alla fine esca fuori finalmente questo finanziatore, anche se non ci risulta che questo finanziatore ci sia. Cosa può accadere? Può accadere che da qui al 30 giugno Agroverdi troverò le risorse intanto per poter ripartire con i lavori e quindi cercare di avere ancora una boccata d'ossigeno e soprattutto cercare di trovare l'investitore prima della scadenza del progetto, dell'autorizzazione, quindi luglio. Se in quel termine non sarà riuscita nell'impresa ovviamente tutto sarà fallito e sarà veramente una bella responsabilità che sarà assunta Agroverdi e nella persona del suo legale rappresentante perché ha perso delle occasioni importanti. Adesso c'è una nuova giunta comunale, come potrebbe intervenire nella vicenda? Potrebbe secondo me chiamare Agroverdi e dargli un termine strettissimo, più stretto ancora di quello che oggettivamente ha e avviare una ipotesi alternativa, un piano B che potrebbe essere quello che nell'ipotesi in cui non rispettasse l'impegno è entro quel termine di fare un bando europeo per poter tutelare soprattutto i proprietari terrieri e in minima parte o nel complesso anche gli imprenditori. Lei ha tutelato Rinelli gli interessi di alcuni investitori, ma perché poi il progetto non si è concretizzato? Agroverdi si è sempre sottratta, non ha mai dato la possibilità quantomeno agli investitori che io rappresento di setersi attorno a un tavolo e discutere di una proposta per poterla eventualmente modificare, migliorare anche a vantaggio dell'uno o dell'altra parte. E qual era la vostra proposta? Noi abbiamo fatto dall'anno scorso, dall'agosto scorso fino ad aprile abbiamo fatto più proposte ad Agroverdi. La prima era quella di lasciargli integralmente la gestione delle serre, acquisendo la titolarità delle serre stesse e lasciando la gestione delle serre alla Agroverdi senza dover pagare un centesimo per manutenzione ordinaria straordinaria. Poi successivamente dopo risposte negative, alternanti eccetera, si è modificata quella proposta tenuto conto anche di comportamenti che sono stati ritenuti non corretti da parte degli investitori e gli è stato proposto qualcosa di diverso lasciandogli la metà della gestione delle serre e una piccola somma di denaro per poter ripartire alla stessa Agroverdi. Si è tornati a modificare quella proposta fino a dirgli ti diamo, ti paghiamo una somma X per poter tu uscire dall'operazione una cice dell'operazione e via. Questa cosa è stata anche questa rigettata, quindi da questo punto di vista mi pare che preferiscano morire più che andare a portare a realizzazione un progetto che ovviamente è stato autorizzato con grande impegno da parte della politica regionale e locale, evidentemente nell'interesse del territorio, dell'economia del territorio invece, sta morendo purtroppo e la responsabilità ha un nome e un cognome. Grazie.